15 giugno 2024. Santa Vergine di Meggiugorie, vuole una novena, perché sa che la guerra mondiale si avvicina. Il giorno 15 giugno 2024, alle 18.46, la Madonna è apparsa alla Veggente Maria di Meggiugorie per circa 7-8 minuti. Maria, visibilmente emozionata, ha raccontato l'accaduto in croato, italiano e inglese. Durante l'apparizione, Maria ha affidato alla Madonna tutti noi, i nostri bisogni e ciò che portiamo nel cuore. La Madonna ha pregato per noi e ci ha benedetto. Con voce commossa, Maria ha riferito che la Madonna ha richiesto una novena di 9 giorni, da iniziare domani, 16 giugno. Ogni sera, alle 23.30, siamo invitati a salire sulla collina delle apparizioni per pregare. Maria ha specificato che per i prossimi 9 giorni, le sue apparizioni non saranno alle 18.40 come di consueto, ma si terranno alle 23.30 in cima alla collina, un cambiamento che l'ha sorpresa profondamente. La tradizionale novena alla regina della pace è già iniziata a Meggiugorie, con abitanti del villaggio e pellegrini che salgono sul monte delle apparizioni all'alba, recitando tre o quattro misteri del rosario. Maria, come ogni anno, partecipa a questa novena. Stasera, dopo l'annuncio della Madonna, le è stato chiesto se avrebbe continuato a salire sulla collina delle apparizioni al mattino per la novena. Maria ha risposto fermamente, salgo sia al mattino che alla sera. Il mondo sta vivendo una nuova guerra fredda e alcuni temono che si possa trasformare in un conflitto caldo. La Madonna ci chiama a questa novena con urgenza. Alle 23.30, ora di Meggiugorie, partecipate all'adorazione o, se non potete, uscite nel vostro giardino e pregate un rosario. La preghiera è più necessaria che mai in questi tempi di tensione globale. Grazie. 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 Grazie.